Dice di volersi candidare alle europee nonostante l'interdizione, ma il pensiero di Silvio Berlusconi è rivolto alle politiche. Il leader di Forza Italia ha una sua tabella di marcia. È convinto che si voti a maggio con un accordo sulla legge elettorale che preveda un premio di maggioranza del 15% con una legge insomma che riprenda il modello spagnolo. Due condizioni che, dice, potrebbero assicurare a Forza Italia di arrivare ad avere da sola la maggioranza in Parlamento. È il ragionamento che ripete più o meno esplicitamente i suoi militanti sparsi nei club forzisti di tutta Italia, ora quota 7.000 con la prospettiva di arrivare a 12.000. Il Cavaliere si prepara a celebrare con una grande chermessa i 20 anni dalla discesa in campo avvenuta il 26 gennaio del 94, ma intanto resta lo scontro interno sui futuri vertici del partito. C'è stata infatti una brusca frenata sulla prevista nomina coordinatore unico di Giovanni Toti, direttore del Tg4 e di studi aperto, una scelta fortemente osteggiata dal gruppo dirigente del PDL che fu da Verdini a Sant'Anchea a Capezzone, soprattutto da Raffaele Fitto, uno dei principali protagonisti della fase che portò alla scessione degli alfaniani e che ora minaccerebbe a sua volta di lasciare se Forza Italia dovesse finire nelle mani del nuovo arrivato Toti. Per ora tutto congelato, anche se ieri ci sarebbe stato un vertice ad Arcore, presente Toti e la primogenita di Berlusconi Marina, che nonostante le smentite ufficiali resta sempre la carta da giocare in caso di elezioni. Tanto più che Berlusconi difficilmente potrà guidare come lui stesso ha annunciato le liste di Forza Italia alle europee, nonostante l'assist arrivato da Angelino Alfano, leader del nuovo centrodestra e ministro dell'interno. Berlusconi è candidabile? Politicamente lo è di certo, giuridicamente non compete a me dirlo, ma gli auguro di sì. Un augurio che non è piaciuto fatto agli alleati di governo del PD a parlare la deputata Renziana Bonaccorsi, parole gravissime quelle di Alfano perché sconfessano le leggi.